Siamo stati presenti alla Coppa Giordi per il secondo anno consecutivo. Al contrario dell'anno scorso, quest'anno abbiamo portato tre categorie, portando anche il 2008. Nella categoria Under 13 siamo riusciti a portare a casa un trofeo internazionale. Una emozione grandissima, quindi una grande annata 2006. La squadra era formata da una rappresentativa, tra noi l'Invicta e società amiche che l'anno prossimo entreranno nel nostro progetto, che sono il Futsal Salandra e il Monte Peloso Irsina. È stata un'esperienza stupenda, poi portare a casa un trofeo internazionale, insomma non è da tutti. Un confronto con scuole calcio internazionali, francesi, olandesi e i nostri ragazzi hanno ben figurato. Abbiamo portato la categoria Under 15, ha perso solo una partita, ha perso contro una squadra inglese fortissima che ha vinto poi la categoria e i pulcini anche. Quindi abbiamo sommato comunque su 14 gare fatte dalle nostre categorie abbiamo perso soltanto due partite. Questo ci fa ben sperare perché ci siamo confrontati con scuole calcio, ripeto, di mezza Europa, 240 società di 13 nazioni diverse. Quindi significa che il nostro lavoro penso che sta andando molto molto bene.